Salve a tutti e ben ritrovati su PFTV, io sono Pasquale Vesegna e queste sono 5 cose che non sai della finale di UEFA Euro 2020. Punto numero 1. Gareth Saugate è l'allenatore inglese che ha portato la squadra dei Tre Leoni nuovamente in semifinale del campionato mondiale di calcio nel 2018 e per la prima volta nella sua storia nella finale dei campionati europei di calcio. Già perché l'Inghilterra è l'unica squadra campionista mondiale ad andare a non aver mai giocato una finale continentale. Sarek Gauthier è l'ex CT dell'Inghilterra, ex difensore di Crystal Palace, Aston Villas e Middlesbrough, con queste ultime due squadre ha vinto una Coppa di Lega inglese per ciascuna ed è stato anche finalista nel 2006 con il Middlesbrough di Maccarone della Coppa UEFA, poi vinta da Siviglia. Da membro della squadra inglese ha raggiunto le semifinali di UEFA Euro 1996 disputate proprio in Inghilterra. Ha guidato l'anzionale dei Tre Leoni in 60 partite dove i suoi hanno segnato 121 retti, cioè due di media ogni partita, vincendo 39 match, parreggiandone 11 e perdendo dei 10 con il 65% di vittoria all'attivo. Per quanto riguarda Roberto Mancini la sua carriera da centrocampista offensivo attaccante la sappiamo tutti. Bologna, Sampo e Lazio per poi concludere la sua carriera al Leicester City ha vinto tutto e dappertutto. 5 scudetti, 2 da cacciatore, 3 da allenatore, 10 Coppa Italia, si avrebbe vinto la stella d'argento al merito sportivo da solo, 6 da giocatore, 4 da allenatore, ha vinto l'EFA Cup in Inghilterra, ha vinto la Coppa di Turchia, 12 Coppe nazionali, ha vinto la Premier League per la prima volta dopo più di 40 anni con il Manchester City nel 2012 all'ultimo secondo. Come allenatore questa è la sua prima finale internazionale. Sì, con la grande Inter, con cui fece 17 vittorie consecutive in campionato nel 2007, non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale di Champions League. L'Azionale di Mancini ha giocato fino ad oggi 38 partite, inaneando una serie di 33 risultati utili consecutivi, segnando 91 reti e vincendo 28 match, parreggiandone 8 e perdendo soltanto 2, con una percentuale di vittorie del 73,68%. Punto 2. Southgate, il CT dell'Inghilterra, è soltanto uno dei dieci allenatori mondiali che riuscì a portare la sua squadra ad almeno tre semifinali consecutivi in un grande evento per nazionali. Il primo di tutti è Vittorio Pozzo, vincitore dei mondiali nel 1934 e nel 1938, che vinse anche le Olimpiadi nel 1936, e la Coppa Internazionale, che era il proto-europeo nel 1930 e nel 1935, arrivando secondo nel 1932. Tra l'altro è riuscito a fare un trippi, vincendo i mondiali nel 1934, la Coppa Internazionale nel 1935 e le Olimpiadi nel 1936. Poi abbiamo Ugo Meisel, l'allenatore dell'Austria, la Bundestag, che ha vinto la Coppa Internazionale nel 1932, arrivando quarta in mondiali nel 1934 e perdendo la finale olimpica nel 1936. Inoltre, finalista nel 1930 e nel 1935, un finalista seconda classificata della Coppa Internazionale, ricordando che è il proto-europeo di calcio. Helmut Schoen, con la Germania, ha partecipato solo a due tipologie di tornei. Nel 1970 arrivò terzo ai mondiali, poi vinse gli europei nel 1972, vinse i mondiali nel 1974 e arrivò il secondo agli europei nel 1976. Carlos Biliardo è stato il grande allenatore dell'Argentina, che ha vinto il mondiali nel 1986, è arrivato quarto in Coppa Americana nell'87, terzo nell'89 e poi è arrivato finalista dei mondiali nel 1990. Mario Zagallo, invece, ha vinto cinque, potremmo dire, tre o quattro mondiali col Brasile, due da giocatore e uno da allenatore nel 1970. Nel 1994 fu direttore tecnico della spedizione che alzò un'altra Coppa del Mondo. Poi cosa ha fatto? Ha vinto la Coppa America nel 1997, la Confederation Cup della FIFA nel 1997, per poi perdere la finale dei mondiali nel 1998. Vincente del Bosche ha sfiorato il 3-peat, che è riuscito solo e veramente a Vittorio Pozzo. È stato vincitore dei mondiali del 2010, mentre il titolo precedente lo vinse a Ragoness, quello degli europei con la Spagna nel 2008. Quindi lui vinse i mondiali del 2010. Prima di questo vinse la Confederation Cup, arrivò terzo in Confederation Cup del 2009, poi ha vinto gli europei nel 2012 e ha perso la finale di FIFA Confederation Cup del 2013. È l'allenatore in assoluto che è arrivato più vicino a realizzare il 3-peat fatto dal nostro Vittorio Pozzo. Scolari ha fatto questa posizione in tre semifinali consecutive in maniera, potremmo dire, particolare. Ha vinto i mondiali del 2002 col Brasile, poi è passato ad allenare il Portogallo ed è arrivato secondo gli europei del 2004 e poi quarto ai mondiali del 2006. E per finire concludiamo con due allenatori ungheresi. Gustavo Sebes, il grande allenatore della squadra d'oro ungherese, ha vinto le Olimpiadi nel 1952, la Coppa Internazionale nel 1953 ed è stato finalista del mondiale nel 1954. Invece Lasoi Barotti, Lasios Barotti, come si pronuncia, nel 1960 arrivò terzo alle Olimpiadi di Roma, poi nel 1964 arrivò terzo agli europei e vinse le Olimpiadi. Certo, ci sono i mondiali di mezzo, quindi siamo un po' più larghi. Quindi Sudgate ha fatto una vera e propria impresa, in precisato dal fatto che potrebbe stendere la sua rete di successi e di progressi anche più in là. Dimenticavo un nome, Joachim Loh, che è nella partiera, o ba, multipla. Nel senso che, cerchiamo di ricordarci, nel 2008 perde la finale degli europei, nel 2010 è terzo ai mondiali, nel 2012 è terzo agli europei, nel 2014 vince i mondiali, nel 2016 è terzo agli europei e nel 2017 vince la FIFA Confederation Cup. Questi ultimi tre sono effettivamente tre tornei consecutivi. Stiamo a parlare di aspetti legati veramente alla partita che vedremo domani. Se l'Italia, e questa è la mia paura, dovesse perdere, l'Italia ha quattro finali degli europei. Se dovesse malagotardamente perdere, passerebbe nel lato proprio sbagliatissimo della storia. Fino ad oggi, l'unica nazionale che ha vinto un europeo e ha perso tre volte la finale, tra l'altro vincendo prima l'europeo e poi perdendo tre volte la finale, è l'Unione Sovietica, che fu campione d'Europa alla prima edizione del 1960 e persa i finali del 1964, 72 e 88. Speriamo di non fare la loro stessa fine. D'altro canto, però, c'è da dire una cosa molto molto importante, molto molto, non divertente, ma che ci rallega. A parte che l'Italia ha uno score migliore rispetto all'Inghilterra, negli sconti diretti, che le ultime volte li abbiamo battuti, sia gli europei del 2012 che i mondiali del 2014, c'è una controtendenza degli europei. Prima chi li organizzava era favoritissimo per la vittoria, anche perché per li organizzati era il diciassimi finalista, ma nelle ultime due occasioni in cui la squadra che ha organizzato il torneo si è ritrovata in finale, cioè il Portogallo nel 2004 e la Francia nel 2016 ha sempre perso la finale. Ed è anche vero che questa edizione si gioca in 12 stati, 12 città, 12 paesi diverse, però la maggior parte delle partite e la fase finale si gioca a Wembley di Londra, dove sono stato, tra l'altro. E quindi l'Inghilterra dovrebbe essere la padrona di casa per questa fase finale del torneo. L'unica volta in cui un team si è ritrovato ad aprire e a chiudere l'europeo, non quando era limitato solo a quattro squadre, è poi risultato il vincitore dell'europeo stesso, o meglio, da 16 squadre in poi è sempre accaduto così, perché prima a me non erano tipo l'Italia nel 1968 aperto l'europeo nel 1968 e l'ha anche chiuso, però da quando sono 16 squadre l'unica volta in cui è capitato la crescita a Portogallo nel 2004 ha aperto la partita contro il Portogallo vincendo, ha chiuso la finale contro il Portogallo vincendo 2 a 1 e 1 a 0 e quindi l'unico team che ci è riuscito ad aprire e chiudere l'europeo giocando quindi per tutta l'estensione massima dell'europeo poi si è se l'ha giudicato punto numero 5 l'11 luglio è una data magica per noi perché 39 anni fa l'Italia si è giudicato il suo terzo mondiale riuscendo a sbloccarsi dopo beh 1934 1938 prima del 2006 1982 e dal 38 al 82 ne sono passati di anni punto bonus Cristiano Ronaldo è il più grande marcatore di sempre degli europei si ha anche giocato più partite più minuti in assoluto la cosa che più mi colpisce è il dato Cristiano Ronaldo ha battuto 28 punizioni agli europei al secondo posto nonostante abbia battuto 4 volte in più il numero di punizioni rispetto a tutti gli altri rispetto al secondo classificato Cristiano Ronaldo di punizioni ne ha segnate agli europei 0 ciao a tutti